Quindi siamo con il dottor Borgioli nella città di Vinci. Il dottor Borgioli ha gestito il suo primo caso con il Navident. Può presentarci il caso nello specifico? Allora direi una metodica eccellente. Abbiamo trattato una paziente di 45 anni con un'atrofia importante, cristale mandibolare. Abbiamo posizionato due impianti rispettivamente in posizione 3.5 un impianto di 10 mm per un calibro di 4 e in posizione cristale 3.7 un impianto di calibro 4 mm di lunghezza di 8 mm. Direi che la procedura è andata spedita, non ci sono state complicanze e vedremo ora la finalizzazione del caso come va, ma veramente un grande entusiasmo. Grazie mille dottore, grazie.